L'Associazione di Grafologia Lapis terrà un corso di grafologia ed esami di grafia in 10 lezioni. Le lezioni avranno cadenza settimanale e inizieranno venerdì 15 dicembre 2017. Tutti gli iscritti di www.specialage.com potranno seguirli sul canale YouTube di Special Age o cliccando sul link che verrà riportato nel social network. Il corso sarà comprensibile per tutti, sarà gratuito, registrato e quindi visibile più volte. Chi avrà la pazienza di seguire tutte le 10 lezioni potrà divertirsi con le grafie di amici e parenti e conoscere aspetti che forse ignorava. Al termine di ogni lezione, ad esclusione della prima, Mirko Calzolari, presidente dell'Associazione Lapis, dopo un'analisi estemporanea, illustrerà un paio di grafie fra quelle che giungeranno all'indirizzo email Chiunque è interessato all'interpretazione di una grafia può inviare uno scritto di una decina di righe e non solamente la firma, che non sarebbe sufficiente per interpretare la personalità dello scrivente. Utile anche per le aziende alla ricerca di personale, a genitori e ad educatori.